Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase, oggi mi trovo in zona Pineta Sacchetti, a pochissimi passi dalla Pineta, quindi da un grande polmono di Roma, e ti presento l'appartamento appunto chiamato la Pineta. Ci troviamo in via Calisto secondo 9, è un appartamento con una grande possibilità di modifica e di ristrutturazione, modificando anche gli ambienti, perché è un appartamento anni 60, quindi classica disposizione, con un soggiorno molto spazioso, ecco qui le varie angolazioni, come vedete c'è un mobile abbastanza capiente, in un armadio a muro, dal soggiorno c'è il primo accesso sulla parte esterna che è sicuramente uno dei punti di forza della casa, questo è l'ingresso ampio con un altro armadio a muro, e da qui il disimpegno che ci accompagna la camera da letto, cucina e bagno. Ecco qui il primo ambiente, la cucina che è una cucina abitabile arredata su due lati, c'entrano il tavolo tranquillamente per 3-4 persone, il bagno è anch'esso comodo, dove c'è tutto quanto, box doccia che peraltro può essere ingrandito, infine la camera da letto, che anche questa è abbastanza spaziosa, poi è stato scelto un arredamento in questo modo abbastanza particolare, con il letto in mezzo, l'armadio alle spalle e la televisione. Come vi dicevo è un appartamento che dal mio punto di vista ha un grande potenziale anche per essere trasformato creando uno studio, una cameretta, facendo una zona al giorno con la cucina a vista o con l'angolo cottura, e poi come vi accennavo all'inizio del video c'è un grande punto forte, che è questo spazio esterno sicuramente vivibile, eccoci qui, la pinita sacchetti è da questo lato, eccola si intravede facilmente, è una via secondaria quindi molto silenziosa, questo appartamento da questo lato è sud e da quest'altro est, quindi anche un primo piano abbastanza luminoso, quindi ricapitolando, via Callisto secondo 9, un primo piano che ha anche una cantina di proprietà, che peraltro è molto capiente, c'è un ingresso, il soggiorno, cucina abitabile, camera da letto bagno e un terrazzo, con possibilità appunto di modifica e di ricavare uno studio cameretta. Per qualsiasi informazione in più non esitate a contattarmi, a breve sulla destra ci saranno i miei recapiti. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.